Inside Out 2 è stato reso meno gay per accontentare una parte del pubblico domanda Leggiamo Non è tutto oro quel che luccica Che partenza, questo non è... questo è Cristiano Bolla È l'amico di... di coso lì, che è di Inside Out Scusate, l'amico di Best Movie L'altra testata grande, bellissima Che cosa ci dici? Recita un proverbio e a quanto pare vale anche per un film fenomeno Come Inside Out 2 Mio rincasso dell'anno, detentore di record sul record Il film della Pixar che è ora al centro di un report Che in mezzo a così tante luci pone l'accento su qualche piccola possibile ombra Attenzione Il film, che è diretto da Casely Man È stato un colpo assoluto per le due etichette, Disney e Pixar Reduci da alcuni anni non eccezionali sul fronte dei risultati Non eccezionale, peggio È un eufemismo dire non eccezionale Forse c'è proprio la necessità di mettere a segno un successo dietro a quanto viene riportato da IGN Che ha parlato con alcuni ex dipendenti Pixar A saltare all'occhio e soprattutto un dettaglio Secondo quanto affermato, Inside Out 2 sarebbe stato condizionato anche da quanto accaduto con Lightyear Lo spin-off di Toy Story Dedicato al personaggio di Buzz Una fonte ha infatti affermato che la leadership dietro al film citava spesso quell'esempio Tiravano fuori l'IDR nello specifico per dire che era stato un fallimento finanziario Per colpa del bacio queer Viene riportato riferimento a una scena che effettivamente ha fatto molto discutere presente all'interno del film Quel tentativo di inclusione avrebbe segnato molto la produzione anche per Inside Out 2 e il suo sviluppo Secondo il report si è deciso di fare una storia universale Ma molte fonti sottolineano proprio che la richiesta continua Era quella di rendere la storia di Riley meno gay Il personaggio dà l'idea di avere un'infatuazione per Val Uno dei personaggi presenti a quella là con i capelli questa qua praticamente Ok La giocatrice più forte delle Firehawks Ma nel film il tema viene affrontato in maniera molto leggera E ci si concentra più sullo stato d'ansia della protagonista Ops A settembre 2023 sarebbero state fatte molte modifiche al film Dopo la fine dello sciopero dei sceneggiatori Viene riportato che sarebbe stata messa particolarmente cura Per far sì che la rivelazione tra Riley e Val Sembrasse il più platonica possibile Un lavoro extra per rassicurarsi che nessuno potesse potenzialmente vederle come Altro che eterosessuali E' una delle frasi riportate E ancora Riley è canonicamente gay Attenzione eh Sto leggendo Nel film però nulla di quello che dice lo rivela E' un dettaglio che arriva dal contesto E' qualcosa che hanno cercato di smorzare a più riprese Pixar quindi avrebbe cercato di evitare di finire nella stessa presunta trappola di Lightyear Ma c'è chi è convinto che il flop di quel film non sia dovuto ai temi queer o al bacio gay Tra i personaggi di quello spin-off Si sarebbe però cercato di evitare le reazioni di una parte del pubblico Ancora resti a questo genere di rappresentazioni Inside Out 2 sarebbe stato un tale successo se avesse incluso tematiche LGBTQ plus Allora ragazzi questo è un discorso complesso Che non va preso alla leggera Perché qui non c'è solamente cinema Qui c'è società Qui c'è politica Ci sono le elezioni a novembre E sappiamo che i repubblicani Guidati da Trump Ovviamente Trump ultimamente ha fatto delle affermazioni abbastanza forti Prendendo per il culo un po' L'altra parte ovviamente Non so se avete sentito Ha detto che i ragazzini americani vanno a scuola e tornano praticamente deviati Dalla cultura LGBTQ plus eccetera eccetera Tanto è vero che su TikTok è partito la moda di fare i video Mamma e figli fanno i video dove la madre manda il bambino a scuola E il ragazzino Lo giuro che ogni video su TikTok torna a vestire una donna Per farvi capire a che livello di discussione siamo arrivati qui su Vi giuro ragazzi ci sono i video su TikTok Io quando ho visto questo video ho detto ma stiamo facendo seriamente Però sappiamo che gli americani quando si parla di politica Ragazzi siamo messi veramente male Altro che italiani Noi tendiamo a fare ironia Qua raga qua si pigliano a scoppiettate Penso che ce ne siamo resi conto E quindi qua non è solamente una questione di cinema Ma anche di politica ovviamente Ma soprattutto di target Questo film Allora dico la mia sulla frase Riley è canonicamente gay Ovviamente a me non dà fastidio che Riley La protagonista di Inside Out sia gay Non vedo quale potrebbe essere il problema Non vedo quale sia il problema Quello che mi dà fastidio è perché far uscire Cioè perché dal film personalmente io non ho mai Mai pensato che Riley fosse gay Mai Non mi è venuto mai il dubbio Non so voi ragazzi A me non mi è venuto mai il dubbio Perché si comporta come una ragazzina qualosiasi personalmente Quindi non è che la ragazzina gay si dovrebbe comportare diversamente dalle ragazze normali Però il rapporto che lei aveva con quest'altra ragazzina Non mi sembrava di quel tipo lì Tutto qui Non mi ha mai dato quella sensazione Quindi la domanda più che altro che mi faccio è perché far venire fuori questo tipo di informazioni Che ripeto ragazzi sono venute fuori Vuol dire che saranno probabilmente reali Anche perché il bacio nel film di Lightyear è reale Presente Quindi a me non dà fastidio ovviamente Che Riley sia potenzialmente gay Che poi non vuol dire che vuol dire Riley è canonicamente gay Che cosa vuol dire? Non vuol dire niente Cioè che vuol dire che Riley è un personaggio inventato Tutto ciò che noi sappiamo di questo personaggio è quello che noi vediamo nel film Se dal film noi non percepiamo in alcun modo l'omosessualità di Riley Non vedo come lei dovrebbe essere canonicamente gay Che cosa vuol dire? Non capisco proprio il senso della frase E poi sul fatto che la Pixar abbia deciso di limare tantissimo la cosa Io posso anche crederci Perché ragazzi sappiamo che c'è una grossa spinta Per avere tematiche walk nell'ambito cinematografico E sappiamo che la cosa è venuta fuori anche ad esempio in Rings of Power Con questo bacio si parlava di un bacio omosessuale tra personaggi che ancora non abbiamo visto Secondo me non ci sarà Quindi c'è una grossa spinta per avere questo tipo di tematiche Però sappiamo che c'è anche un grosso rigetto a queste tematiche Quando vengono inserite in modo forzato Il problema però sapete qual è? Che se io Io me ne sto accorgendo stando qua ragazzi In modo particolare dove vivo io in North Carolina Qui loro hanno un'educazione molto religiosa Che tengono molto ai principi religiosi L'omosessualità ve lo dico con molto sincerità Non è vista di buon occhio dove vivo io Ve lo dico con molta sincerità e mi dispiace ovviamente della cosa Tant'è vero che io quando ad esempio ho vissuto anche in altri luoghi Ho vissuto a Berlino Ho vissuto in Francia, in Polonia, a Varsavia Anche in Polonia, bene o male il livello è quello lì A Berlino vedevo coppie tranquillamente omosessuali Camminare per strada come se nulla fosse Ecco qui la cosa secondo me non verrebbe accettata molto bene Ve lo dico con grande... Non sto dicendo che gli americani sono omofobi Sto dicendo che hanno un loro modo di vedere le cose Qui sono molto religiosi Ci tengono molto ai principi che porta con sé la loro religiosità E credo che qui non ho mai visto ancora... Dopo un anno non ho ancora visto una coppia Dello stesso sesso, due persone allo stesso sesso tenersi per mano In parte triste come cosa Perché questo? Perché probabilmente, appunto, ripeto Non verrebbero tollerate in queste zone qui E dato che questo film era rivolto alle famiglie Era rivolto ai genitori Che portano i bambini a vedere questo film Un bacio omosessuale all'interno di questo film Sarebbe stato interpretato come un modo di influenzare i bambini Di influenzare i giovani Ed è una tematica che, come ho detto, ha citato proprio in questi giorni Lo stesso Trump nella sua campagna elettorale Quindi qui, ragazzi, non è solo un discorso di Eh, ma che... Facciamo che senso ha fare il rally gay? Non gay? No, qui è un discorso politico Che va ben oltre la semplice Produzione... La semplice scrittura di un film come questo Quindi, per chiudere il discorso che ho fatto Lascio la parola a voi A me, ovviamente, non avrebbe infastidito in alcun modo Se Riley fosse stata... Si fosse rivelata gay all'interno di questo film Non mi avrebbe infastidito in alcun modo Non vedo perché... Avrebbe dovuto infastidirmi Però posso comprendere le scelte fatte dalla Pixar Se ovviamente quello che c'è scritto in questo articolo È vero Se quello che c'è scritto effettivamente corrisponde alla realtà Stavolta facciamo il giro opposto Prego, Arca Allora, qua la questione è semplice Io sono un uomo semplice Voglio partire dai soldi Perché... Sei un uomo... Un uomo... Un uomo sessoa? No, semplice Ah, ok, scusa, scusa Siamo in America Qua ora mi sparano Oh, scherzavo No, si scherza Allora Io sono un uomo semplice E vado Fiuto i soldi Sì, è il discorso politico Ma la Disney vuole fare i soldi E allora Rimembro certe cose Io mi ricordo Che Dr. Strange Ah, detto membro, signor Arca Detto membro, signor Arca Oh, ma allora lei... Eh, vabbè, Arca Stia attento alle parole che utilizza pubblicamente La prego Vabbè, vabbè Io ricordo Che Dr. Strange Multiverse of Madness C'era una protagonista con due madri E questo film non è uscito in Cina Il film ha incassato Un miliardo, quasi Se ne sono sbattuti il cazzo Dici Vabbè, ce ne frega niente E no, che 100 milioni Avrebbero fatto comodo alla Disney Perché è tutto della Disney Essenzialmente L'ITR Il film è brutto Perché brutto Recensione sul canale L'ho detta al tempo Non funziona È per bambini E c'era questo famoso bacio Ora, a me Fa male vedere questa Disney Che prima fa la voce grossa Negli anni Dicendo Noi siamo I baluardi Dell'inclusione Ce ne sbattiamo Quindi facciamo vedere cose Perché noi non ce ne frega niente Perché guadagniamo Appena l'ITR Fa uno dei più grandi flop La storia della Pixar Perché è quello Si cagano addosso Vi ricordate il discorso di prima Che Disney si caga addosso Per la Marvel Perché hanno flopato due film L'anno scorso Ecco, si cagano addosso pure qua E quindi hanno detto Ammazza Oh Quello ce l'hanno tolto dalla Cina Ecco L'ITR La gente non piace Tutto questo movimento Ma sai cosa? Il film Come avevo visto E detto nella mia recensione Era scritto per essere gay Perché L'attaccamento della biondina A sta qua Era palese A un certo momento C'era Una sorta di adorazione Che andava oltre Il voler essere come lei Però Anche dalla tua recensione Tu non hai detto Che ti dava la sensazione Che Riley fosse gay Dai Io ho detto Che Era un'occasione Sprecata Perché Si poteva Imbastire Su quella storia L'omosessualità Perché sarebbe stata Costruita E cosa scopro ora? Che doveva essere così Perché L'emotività finale Di lei Che batte il cuore Eccetera Non è solo una questione Voglio essere come la rossa Le voglio bene E quindi La voglio bene come? A livello Adolescenziale Quindi Questa Disney Che si tira indietro Perché non incassa Ora In un ipotetico In Salao 3 Ce lo metterebbero La storia gay Perché sanno Che il brand è forte Non lo so E quindi funzionerebbe In Nel secondo Non l'hanno fatto Chiaramente Perché Sono Stanno rischiando La banca rotta Poco ci manca Ora hanno fatto Sti incassi Con Deadpool E va bene In Salao 2 Quindi stanno tranquilli Per sei mesi Forse Ok Ma Il punto è questo Loro Lo sanno Che alla gente Non piace Ma vogliono Fare la voce grossa Vogliono dire Noi siamo I paladini Di un certo tipo Di movimento Poi Chiaramente Si aggiunge La questione politica Nei vari paesi Ma secondo me Qui è una questione Di soldi Perché Se tutti i film Guadagnassero Della Disney E andassero In tutti I paesi del mondo Se ne sbatterebbero Di mettere Omosessuali E eccetera Il gruppone Se ne sbatterebbero E invece Siccome I soldi Fino all'anno scorso Faticavano Ad arrivare Si sono fatti Due conti in tasca Hanno detto Ma ci conviene Per una scena Perde 300 milioni No Non ci conviene E questo È un fatto di soldi O magari avrebbe Fatto scalpore E avrebbe attirato La viralità Chi lo sa Oppure avrebbe bloccato Il mercato cinese Può darsi pure Ah sì O russo O quello indiano Certo 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 Pakistano Tutto quel mercato lì Asiatico Non solo lì Ma anche il Medio Oriente Il mercato del Medio Oriente Sì Questo pure è vero Però Ripeto Cioè A me non dà fastidio Né che sia eterosessuale Né che sia omosessuale Uno può dire Può criticare Perché sono partiti No ma neanche a me Dà fastidio Anzi Scusami Frank Io avrei preferito A questo punto Che loro Avesse del coraggio Come ho detto Nella recensione Vai Vacci di testa Dalla prima scena Mi mostri che lei È omosessuale Si innamora di questa A posto Sarebbe stato più coraggioso E invece no Vabbè Ivano Rapido 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 Vai Allora volevo dire Che il presidente Bob C'era un presidente Che si chiamava Bob Poi c'è stato Un altro nuovo Che si chiama sempre Bob E poi è ritornato Il vecchio Bob Che ha detto Aspa che cazzo Stai dicendo Non ho capito Sì ci sono Due tre Sì è vero Allora C'è un Bob C'è Ipec E c'è un altro Bob Che è venuto dopo Io pensavo Il presidente americano Ma fammi capire Il presidente Tu dici il presidente Che è Berlusconi Bob C'era Bob Poi c'era Bob Poi c'era Bob Ma precis Presidente della Pixar No della Disney proprio No della Pixar Disney Ok Ho capito Ha fatto una dichiarazione Ha detto Noi ci concentreremo Sul raccontare le storie Non ci interessa più Il walk E tutte queste altre cose qua Le gbtq Me la ricordo Me la ricordo E quindi Cioè quella è proprio Una dichiarazione di intenti Cioè secondo me Lasciano proprio perdere Hanno capito Che perdono soldi E lasciano perdere Anche se per me era Cioè ci vedevo Un qualcosa di positivo Cioè loro A costo anche di perdere soldi Buttavano dentro cose In cui credevano politicamente Come magari rappresentare Un po' di più L'inclusività Cioè a me piaceva Però E li capisco anche Cioè loro fanno film Ad alto budget Devono rientrare C'è stato anche un film Disney classico Con i due protagonisti gay E ha flopato male proprio Sotto i 200 milioni Quindi cioè Non possono più rischiare Pure l'altro film Che avete nominato Di battaglia Quindi cioè È ovvio che non lo faranno più Un'unica cosa Allora prova ad andare In impostazioni Ascolta Vai in impostazioni Perché il microfono Tu è alto effettivamente Vai in impostazioni Vedi impostazioni Ma dal telefono Come faccio Dal telefono Pure dal telefono Lo puoi fare Vai in impostazioni Vai in audio Vedi che c'è volume Del microfono Abbassa un po' Ah Ok Comunque ho finito Ho finito quello Che dovevo dire Ma aggiustiamo il microfono Abbassa un po' Vedi un po' se riusciamo A aggiustare E non mi fa fare niente Mi fa solo mettere uguale Regolo Ah no Regolo automaticamente Ok sì Ok Lo abbassa Lo abbassa Prova a parlare adesso Quindi non andranno avanti Adesso È basso Però va bene così Vabbè ti sentiamo comunque Ti sentiamo comunque Vai Vai alzalo un po' Allora Va giusto un po' Lo metto a 30 Dai Va bene così Perfetto Grandi va Vai Andrea Prego Sarò brevissimo Io non ho visto Inside Out 2 E quindi l'unico ragionamento Che mi faccio È di logica Oltre a quello che ha detto Arca Che è È in dubbio Cioè se lo metti Ti bruci dei mercati E quindi con un target Così Di età così bassa Fa tanto Se invece Perché La protagonista qui Ha 13 anni Quindi è più pubertà Che adolescenza Quindi mi immagino Che se proprio vogliono Rendere canonica Così comprensibile Veramente Che lei Sia gay Lo faranno In Inside Out 3 Quando Che tratterà sicuramente Un'età più avanzata Dove anche la consapevolezza Di Del mio orientamento Sessuale Può essere più veritiera Quindi ha un senso Non averlo messo In questo film È troppo piccola Anche se vogliamo Trasferirlo nella realtà Per capire effettivamente Se Mi domando Sono gay o sono etero Che ne so A 13 anni È troppo presto Quindi magari Nel 3 Può essere affrontato Il target del pubblico Sale Perché sale con l'età Del Posso dirti che io Noi abbiamo Quattro bambini In casa La bambina Che è praticamente La stessa età di Rai Lì ha 13 anni Ana Che avete visto Anche a volte compare Anche in chat Ci siamo a fare Trovate a fare Questo discorso qui Nel senso Lei sta iniziando Ovviamente Lei non riesce ancora A comprendere Innanzitutto Qual è il suo Vero orientamento Quindi lei Si sta iniziando A chiedere Sta iniziando A chiedersi Effettivamente Cosa Le piacciono I ragazzi Le ragazze Cioè Questa è l'età In cui loro Iniziano A farse Delle domande Che ovviamente E quindi Anche l'età Più delicata Perché effettivamente Ragazzi Parliamoci chiaramente L'età in cui Si forma La personalità Quindi È più facile E questo bisogna dirlo Manipolare I bambini I ragazzini Di questa età Tra i 12 e 15 anni Facilmente Tu riesci a manipolarli Per magari Condurli In una determinata direzione Per questo E io posso anche Comprendere Le critiche Che arrivano spesso Da una certa parte Politica americana Che i ragazzini Vengono manipolati Dalla disney Per farli diventare Non a quei livelli Di la cultura trans Che i bambini Vogliamo far diventare No Quelli sono Quelli sostronzati Però posso anche Comprendere che Ovviamente Se un bambino Vede un film Per ragazzini In cui c'è un rapporto Omosessuale Due domande Se le fa E non c'è nulla di male Dal mio punto di vista Però là il genitore Che come vi dicevo prima Magari vuole dare al figlio Un tipo di educazione Religioso Cattolico E sapete Raga Qual è il punto Lì Sapete che La religione Non va molto a braccetto Con l'omosessualità Quindi quel tipo Di genitore Ovviamente Non apprezzerà Molto questo tipo Di tematica All'interno Di questa tipologia Di film Rivolte ai ragazzini Non so se ho reso l'idea Quindi io posso Posso comprendere Entrambe le parti Ovviamente Io Come tanti altri Ho una mia opinione Però comprendo Entrambe le parti Ma quindi Il ragionamento Del Magari lo buttano Nel tre Dove l'età Anagrafica Di Riley E più matura E anche il pubblico Il pubblico Che lo va a vedere Perché è cresciuta con lei Quindi i ragazzini Di oggi Di tredici anni Che si sono Identificate in lei Ne avranno magari Diciassette Quando uscirà il tre E ha più senso Trattare una tematica Dove lei è convinta Del suo orientamento Certamente Diciassette più o meno Hai capito